La Seconda Guerra Mondiale, lo sappiamo, è stata una tragedia composta da tante tragedie. Una tragedia sicuramente bellica, i vari fatti d'arme succeduti sui vari campi, una tragedia politica, la smania di potenza di una Germania alla ricerca di rivincite dopo la pace amara della Grande Guerra e dominata da un folle, Adolf Hitler. La tragedia dell'Olocausto, credo che non ci sia molto altro da aggiungere, basta la parola stessa. La tragedia di popoli che hanno vissuto sulla loro pelle le dominazioni tiranniche e poi la necessità di trovarsi una nuova casa. Tante, tante tragedie. Parlarne di tutte è quasi impossibile, almeno in un video di non più di 20 minuti. E allora approfondiamo una delle tragedie di cui si parla meno. Una tragedia che ha riguardato una nazione che ha vissuto in maniera traumatica tanto l'ingresso in guerra quanto lo svolgimento, con una frattura netta al proprio interno tra opposte posizioni politiche e militari e che ha dovuto far fronte a situazioni mai vissute prima d'ora, a situazioni borderline, a situazioni che hanno a un certo punto fatto temere per uno scoppio di una vera e propria guerra civile all'interno di un conflitto mondiale. Parliamo della Francia. La Francia che entra in guerra al fianco del Regno Unito, delle potenze del Commonwealth e della Polonia, aggredita dalla Germania nazista, e che nel giugno del 1940 è forzata a chiedere un amnistizio separato. Un amnistizio che comporta l'occupazione di parte del territorio metropolitano, la nascita di un nuovo regime, quello che verrà chiamato Francia di Vichy o Etat français, e la questione della flotta. Ecco, oggi parliamo della tragedia francese nel primo dei tre episodi incentrati proprio sulla tragedia della Marine Nazionale, dei suoi uomini e delle sue storie. Il nostro primo capitolo si apre in Algeria. E voi direte, ma cosa c'entra la Francia, la Marine Nazionale con l'Algeria? Beh, chiaramente a livello storico e geopolitico, l'Algeria ha sempre rappresentato, almeno per 130 anni, la proiezione mediterranea della Francia metropolitana. Di più, nel 1940 l'Algeria custodisce una delle basi navali più importanti per la Francia. Si chiama Merse-el-Khebir, è un sobborgo di Orano, e in quel periodo, l'inizio dell'estate del 1940, è uno dei porti in cui si è rifugiato il grosso della flotta francese. Facciamo un robusto passo indietro a livello storico. Un passo indietro di quasi vent'anni. La Grande Guerra si è conclusa, sono stati firmati i vari trattati di pace. C'è ancora qualche strascico, pensiamo alla guerra non dichiarata tra Grecia e Turchia, ma c'è anche una conferenza navale. Si tiene a Washington. È la prima di una lunga serie di conferenze che dovrebbero limitare la corsa agli armamenti. D'altronde la Grande Guerra è scoppiata non solo per il famoso, famosissimo attentato di Gavrilo Princip a Sarajevo, non è scoppiata solo per gli attriti costanti tra l'Austria-Langheria e la Serbia palleggiata dalla Russia zarista. È scoppiata anche perché la Germania imperiale ha deciso di sfidare apertamente il dominio britannico sui mari. E quella corsa navale agli armamenti, una corsa che ha visto partecipare tutte le potenze europee e che ha avuto anche un riflesso anticipato in Sud America, con una guerra per fortuna non scoppiata, ma che poteva coinvolgere Cile, Argentina e Brasile, tutte nazioni che avevano deciso di investire pesantemente sul rinnovamento della flotta in prospettiva di un possibile conflitto armato, ebbene quella corsa agli armamenti navali aveva conosciuto quasi un punto di non ritorno. Per quel motivo le potenze vincitrici avevano deciso di ritrovarsi a Washington per porre un freno, per mettere un punto alla situazione. E da quella conferenza si era usciti con dei rapporti di forza delineati, alcuni ingoiati a viva forza. Era il caso della Francia, che grande potenza coloniale, d'altronde buona parte del continente africano era sotto controllo francese, e in più c'erano possedimenti francesi in Indocina, nel Pacifico e anche in Sud America, pensiamo alla Guiana francese, la Francia aveva dovuto ingoiare a viva forza una quasi parità navale con l'Italia, una potenza emergente, con un impero coloniale molto molto ridotto rispetto a quello francese, quindi con esigenze ben differenti. Si era trattata di una scelta politica, eppure la Francia aveva accettato, pur a viva forza, aveva strutturato la propria flotta in maniera tradizionale, navi di linea, navi da battaglia, corazzate come le volete chiamare, una buona flotta di incrociatori, una sola portaerei, ma era una nave sperimentale, la Bearn, costruita sullo scafo di una corazzata che doveva essere appunto una corazzata ma era stata convertita in fase di costruzione, e poi tanto naviglio leggero sottile e una buona flotta subacquea. Queste sono le caratteristiche della Marine National quando scoppia il secondo conflitto mondiale nel settembre del 1939, quindi alcune vecchie corazzate rimodernate, una flotta di incrociatori pesanti e leggeri, qualche unità particolare come il Pluton che è un posamine, una bella componente subacquea, una sulla portaerei comunque di scarso valore bellico, e soprattutto delle navi anche di moderna concezione, incrociatori da battaglia o corazzate veloci della classe Dunkerque, e in costruzione e non molto distante dalla consegna le supercorazzate di classe Richelieu, abbastanza per legittimare le ambizioni francesi di quarta forza sui mari, dietro Gran Bretagna, Stati Uniti e impero giapponese. È chiaro che una flotta di questo genere desta preoccupazione per qualunque avversario, ma desta ancora più preoccupazione quando la Francia si arrende. La Francia si arrende nel giugno del 1940 dopo il colpo di scimitarra dell'Oher che attraversa i Paesi Bassi, aggira la linea Maginot e piomba nelle pianure settentrionali della Francia, attraverso quelle ardenne che si pensava fossero invalicabili per le forze corazzate. Così non è stato. E quindi la flotta cosa fa? Leva l'ancora. In quei mesi di guerra, cioè dal settembre del 39 al giugno del 40, la Francia praticamente ha mantenuto intatta la flotta, ha perso pochissimo, giusto qualche unità minore. Quindi sostanzialmente arriva all'armistizio con tutta la flotta intatta. Ma per non farsi catturare dai tedeschi in avanzata, le navi, quasi tutte, levano l'ancora e vanno nei porti sicuri, a Merse-el-Khebir in buona parte. Alcune preferiscono andare a Dakar, in Senegal. Tra queste c'è anche la Richelieu che arriva lì ancora incompleta. Qualche altra unità è dislocata ad Alessandria d'Egitto, in appoggio alla Mediterranean Fleet inglese. Qualcun altro invece è in Madagascar. In Patria, a Tolone, zona non occupata dai tedeschi, restano giusto un paio di divisioni di incrociatori e alcuni sommergibili. Quindi il grosso della Marina Nazionale, come abbiamo detto, è a Merse-el-Khebir. Il problema qual è? Cosa ne accadrà di queste navi? Resteranno lì? Verranno requisite dei tedeschi degli italiani che nel frattempo sono entrati nel conflitto? Verranno messe in naftalina? Verranno smantellate? Verranno demilitarizzate? Cosa accadrà? E soprattutto cosa intende fare il nuovo governo, il governo di Vichy? Chiamato così perché il maresciallo Petain, il nuovo capo dello Stato, ha deciso di spostare la sede dell'esecutivo da Parigi, occupata, alla cittadina termale solo perché quest'ultima è dotata di una potente stazione telefonica e telegrafica. Cosa pensa di fare, Petain? Cosa pensa di fare Pierre Laval? Cosa pensa di fare l'ammiraglio François Darlan, ammirale della flotta, il capo supremo della flotta francese? A lui dedicheremo un video che farà parte di questa miniserie. Quindi per il momento non parliamo di Darlan. La flotta a Merse-el-Khebir è comandata dall'ammiraglio Marcel Bruno Gensoul e il 3 luglio del 1940 Gensoul viene svegliato dai suoi attendenti che gli comunicano una novità. Davanti a Orano, davanti a Merse-el-Khebir, ci sono delle navi inglesi. È la forza H di Gibraltar, al comando dell'ammiraglio Somerville. Stazionano a largo, in posizione di guardia, ma al momento senza dare segnali di voler far qualcosa. È come se stessero aspettando un ordine. Marcel Bruno Gensoul non lo sa ancora, ma al giorno prima a Londra si è deciso per il via di un'operazione chiamata in codice Catapult. Il governo britannico, paventato dalla possibilità che Hitler o Mussolini possano voler mettere le mani sulla flotta francese e quindi cambiare gli equilibri di forza sui mari, il governo britannico ha deciso di intervenire. Come? Prendendo il controllo delle navi francesi nei porti alleati. Le navi che si trovano in Inghilterra, sono poche, vengono abbordate nei porti. Va tutto liscio, tranne che a bordo del sommergibile Surcouf. Qui, per un malinteso, scoppiano alcuni colpi di fucile, muore un ufficiale francese e un paio di marinai restano feliti. Però per il resto va tutto bene. Va tutto bene anche ad Alessandria d'Egitto, dove la squadra dell'ammiraglio Godfoy decide di buttare a mare gli otturatori dei cannoni e di dichiarare il proprio internamento. Tutto a posto. I problemi riguardano le navi che sono in porti francesi. A Tolone non si può arrivare, ma da Tolone ci sono solo, come detto, un paio di squadre di incrociatori. I problemi sono in Africa, a Dakar e a Merse-el-Kabir. Lì non c'è modo di intervenire, per cui è stato dato ordine all'ammiraglio Somerville di prendere le sue navi e posizionarsi davanti all'uscita del porto di Merse-el-Kabir. Gli ordini che arrivano a Somerville non fanno piacere a nessuno. Gli ordini sono quelli di evitare in qualsiasi modo la consegna delle navi all'asse, ponendo delle condizioni che sono difficili da accettare per chiunque. Molto difficili, perché se un soldato non cede volentieri le armi, figuriamoci cosa può fare un marinaio che vive a bordo di una nave e è abituato a chiamarla casa. Consegnare la nave sarebbe come rinunciare alla propria casa e rinunciare anche al proprio onore di soldato. Il primo ordine che arriva a Somerville è quello di intimare ai francesi la resa e la consegna delle navi, oppure di consigliare loro l'autoaffondamento delle navi stesse. Non viene nemmeno considerata l'idea di comunicare queste condizioni, quindi si aspetta l'arrivo di un nuovo dispaccio che arriva e pone due alternative. La prima è di seguire la squadra inglese in un porto neutrale, meglio se americano. Gli americani ancora non sono in guerra nel luglio del 40 e lì le navi francesi verranno internate. La seconda alternativa è quella di cedere agli inglesi il controllo delle navi francesi. Gli inglesi le utilizzeranno contro gli italo-tedeschi e per ogni nave perduta in azione la Francia verrà indennizzata economicamente. Sono condizioni che sono piuttosto pesanti, ma d'altronde l'Inghilterra non vuole rischiare, non vuole che per qualunque capriccio del destino o idea politica, quelle navi, quelle preziosi navi finiscano a rinforzare la regia marina italiana. Gensoul temporeggia, comunica quanto arrivato da Somerville a Vichy e Vichy gli intima di resistere, di non cedere, di non ottemperare nessuna clausola e di aspettare, perché da Tolone arriverà una squadra di incrociatori che prenderà alle spalle la forza H e dovrebbe teoricamente metterla fra due fuochi e quindi obbligarla a desistere e a tornare a casa. Il problema è che serve tempo, tanto tempo, e tempo non ce n'è. Gli inglesi mandano un ufficiale, il capitano di Vascello Holland, a parlamentare, ma le trattative sono infruttuose. Dopo ora di pranzo arriva una terza e ultima proposta ai francesi. È una proposta da vecchi compagni d'arme. Gli inglesi parlano essersi ricordati che fino a un paio di settimane prima si combatteva fianco a fianco, britannici e transalpini. La proposta è pregatemi di Vichy e venite a combattere i tedeschi con noi. Una proposta irricevibile. La Francia ha firmato un armistizio. Armistizio vuol dire metterci le armi, vuol dire non combattere più. Non si può fare. Allora a quel punto Somerville decide di passare all'azione, anche perché viene informato dei movimenti della squadra a Tolone. Sa benissimo che più il tempo passa e più il rischio di perdere tutto e di lasciare che i francesi facciano il loro gioco aumenta. Alle 4 del pomeriggio Somerville mette la sua squadra in posizione. Navi allineate, torri ruotate, pronti per il fuoco di bordata. Alle 16.56, dopo che in rada si sono già avvistati i primi fumi delle caldaie, segno che Jensoul ha dato ordine alle sue navi di scaldare i motori e di uscire, alle 16.56, la forza H apre il fuoco. Prima di cominciare a sparare, Somerville ha fatto stendere una cortina fumogena e artificiale da parte dei cacciatorpediniere di scorta, giusto per evitare sorprese. Ma la posizione inglese, al di fuori della baia, all'arco, è perfetta, mentre i francesi, in rada, sono mal disposti. Alcune navi sono addossate l'una all'altra, fanno fatica a manovrare in fretta e per uscire dalla rada velocemente avrebbero bisogno di un'altra disposizione e molto più tempo, tempo che non c'è. Quando gli inglesi cominciano a sparare, è un vero e proprio massacro. Inizialmente l'unica nave in rada che riesce a rispondere al fuoco è la Provence, è una vecchia corazzata rimodernata. Ha un asso nella manica, la Provence. Il suo direttore di tiro, Pierre-Émile-Marie Charrière, è stato campione di tiro della flotta per due anni consecutivi. È un asso della sua specialità. Riesce a far brandeggiare le torri e a sparare attraverso le alberature della vicina Dunkirk. Come detto, sa il fatto suo. Il guaio è che la disposizione delle navi non facilita l'opera e la migliore salva sparata dalla Provence cade a 2000 metri, due chilometri, dall'ammiraglia inglese, Lovud, che continua a sparare all'impazzata. Non basta a distogliere gli artiglieri inglesi dal loro compito, che continuano a martellare le navi in rada con proiettili di grosso calibro. Ecco, un proiettile da 381 mm centra in pieno la seconda torre prodiera di grosso calibro del Dunkirk. Esplode all'interno, la corazzatura regge, ma la concussione è terrificante, tant'è vero che i serventi ai pezzi all'interno della torre muoiono tutti sul colpo per i traumi dall'esplosione e le schegge del proiettile invadono la Provence e fanno vittime a bordo, tra cui Charrière che muore sul colpo, ucciso dalle schegge. La Provence e la Dunkirk vengono bombardate senza pietà. A un certo punto la Provence è presa così male che deve allagare di proposito i propri depositi delle munizioni per evitare di saltare in aria e sempre per evitare anche un affondamento in rada, il comandante della nave riesce a spedirla su una secca di presente, la fa arenare di proposito per salvarla. Anche il Dunkirk inizia piano piano a imbarcare acqua, troppe falle aperte nello scappo. Para, spara finché può, ma non infligge alcun danno, al limite induce gli inglesi ad accostare un po' di più a largo, ma sempre mantenendo la mira sulle navi in rada. Molto, molto peggio va alla Bretagna, gemella della Provence, anch'essa una vecchia nave rimodernata. Si libera degli ormeggi, fa aprire delle reti parassiduri, fa giusto in tempo a carburare e a uscire dal suo approdo in rada quando tre colpi ravvicinati a 381 mm la colpiscono al cuore. Una esplosione deflagrante, enorme, investe il locale caldaie, fa sussultare la nave che quasi si solleva sull'acqua e poi ricade. In pochi minuti la Provence vede la sua gemella, la Bretagna, affondare e capovolgersi, come accadrà all'Oklahoma per l'arbor. Non si salva nessuno. Oltre mille uomini di equipaggio vengono intrappolati tra le lamiere e muoiono male, molto male, perché non riescono a scappare. Muoiono in quella nave che diventa una barra d'acciaio a capovolta che affonda a poco a poco, si riempie d'acqua, in ogni boccaporto. È una tragedia. Resta una grande nave in porto, lo Strasbourg, il gemello del Dunkirk. Lo Strasbourg ha il tempo per sua fortuna di rompere l'accerchiamento, parando con tutti i pezzi a disposizione, e viene seguito nella sua fuga dalla porta idrovolanti comandante Est e da una squadriglia di caccia. È una fuga, quella dello Strasbourg, che dura un'ora e mezza con la squadra inglese che cerca di mettersi sulle sue tracce, finché non decide Somerville di interrompere la caccia per evitare di esporre le sue navi a ulteriori rischi. Lo Strasbourg scappa in direzione di Tolone e nel frattempo Jensoul, a Mersel-Kabir, fa innalzare sulle navi rimaste in rada il pennello nero. È una bandiera, nel linguaggio marinaro significa ci arrendiamo. Somerville nel frattempo ha già deciso di invertire la rotta e di tornare a Gibraltar, con un massacro, quello di Mersel-Kabir, che passa la storia come una specie di coltellata al cuore da parte degli ex amici, gli ex alleati, a una potenza sconfitta e che aveva solo cercato di evitare un'umiliazione. A Dakar, avvertiti di quello che sta avvenendo a Mersel-Kabir, i francesi reagiscono in maniera differente. Alla squadra inglese che si presenta davanti al porto, i francesi reagiscono a cannonate, sfruttano la Richelieu, che ancora è incompleta ma alcune armi a bordo già le ha, per sparare e mettere in fuga gli inglesi. A Londra, il generale Charles de Gaulle, che si è autoproclamato capo della Francia Libera, non nasconde il suo disappunto. Ed è un eufemismo. Il più grande piacere della Marina della Francia Libera, dice, sarebbe quello di bombardare i britannici. È una sfida, quella che de Gaulle lancia a Churchill, facendogli capire che quell'iniziativa poteva forse essere evitata, con un po' più di diplomazia, anche perché distruggere le navi francesi. Da un lato priva la Francia Libera di un argomento per reclutare proprio i marinai che si trovano in Africa, e dall'altro rischia di spingere Vichy nelle braccia dell'asse. È un qualcosa che non avviene. Il regime di Vichy durerà altri due anni, mantenendo un atteggiamento alquanto ambiguo, tanto con l'asse quanto con gli alleati. Il colpo di grazia a Vichy sarà l'operazione Torch, lo sbarco in Nordafrica degli angolo americani. Ma questa è la storia che racconteremo nel prossimo video. Grazie per la visione!